Per me è sempre bello tornare in Olanda, sono cresciuto qua, non a Amsterdam ma a Rotterdam, però domani sono qua solo per una cosa, la qualificazione. Vogliamo passare il turno, vogliamo fare un risultato domani e poi vediamo, niente più da dire. Anche per il Barcellona ne ho anche un commento su quello, sono concentrato sull'Atalanta, sto molto bene qua a Bergamo, sono contento, sono felice, la famiglia è felice. Neanche ho pensato a quelle voci. Il clima è uguale come qua, va freddo, siamo un po' bagnati forse, per il resto ci siamo allenati bene e basta. Saremo molto riposati, no no no, scherzo. Sì, otto giorni, io ho detto prima che forse preferisco di giocare con continuità, forse non ogni tre giorni ma ogni quattro, tre, quattro, cinque giorni. Così non so se sarà un vantaggio di non aver giocato per otto giorni. Fisicamente stiamo bene, però abbiamo visto anche nell'altra partita quando abbiamo giocato tre giorni dopo il Liverpool, tre giorni prima del Liverpool, che stiamo bene in campo, che fisicamente siamo a posti. Così domani dobbiamo essere pronti e saremo pronti. Purtroppo non faccio tanti gol, neanche in Olanda ho fatto tanti gol, mai contro l'Ajax. Domani fare il primo contro l'Ajax sarà tanta roba, però più importante è fare il risultato. Spero che facciamo i gol e non è importante chi fa i gol, alla fine contasse il risultato.